Ringrazio comunque di nuovo i sviluppatori del gioco E mannaggia sto string deck che va come vuole Ammazza com'è forte sto gioco Ma non c'è un modo per abbassare l'audio Perché è un po' dannatamente forte Comunque ciao Torre Luca, scusa eh Spero che stai bene, comunque ben arrivato Ben arrivati a tutti E ringrazio di nuovo i produttori del gioco che me l'hanno passato Intanto io mi sono preso una pizza Allora vediamo, mangia Ma non posso mangiarla Ah eh Ok, mangiato Quanto pare mi devo lavare ma non so come lavarmi Oh, vabbè Se voi magari sapete qualcosa di più Sei fatto? Sì, abbastanza fatto Eh, io sono sempre fatto Giustamente Ok, comunque andiamo al negozio che già ho vinto Ho avviato dietro le quinte Questa macchina non frena Oddio non frena Eh vabbè Oddio non so quale messaggio è mai scritto Ma va bene Comunque grazie ancora Luca Grazie per il supporto Sempre molto gentile Ho proprio parcheggiato qui Eh già Ah Gliela lascio qua, vuo un uomo Dicevo che ho smesso di funzionare Ah ok Beh no, non ho manco letto Perché comunque Ero Ero impegnato Ah ma Non posso uscire Non posso uscire Ma io voglio È mezz'ora che apriamo R Ma non si Ah vabbè Ok ce l'ho fatta A posto Tutto a posto Intanto vediamo se mi è sforzato qualche messaggio Ok Anche la chat lì dà un po' di fastidio Vero? Aspettate un attimo Che sistemo un attimo la chat di Twitch Che lì non va bene Magari la metto Che ne so La metto un po' qua Poi la devo risistemare Ok Allora E se magari scende E poi paga l'assicurazione Ho fatto un parcheggio Molto Easy Ho fatto un parcheggio Molto Non lo diciamo nessuno Che ho fatto un parcheggio Molto easy Allora Compriamo negozio Qua ho già messo Un paio di scaffali Ho messo il bagno Portata di mano L'ho messo proprio Wavar La faccio già subito Così almeno Almeno Passa la paura Eh sì Eh Ma io non Sì Salve Ma io Anche qua Ci abbiamo la tv Sono i stessi produttori Di quell'altro gioco Dei panini Tipo se io Metto Twitch Adesso In teoria Mangiamo questo tipo Ho sempre fame Tanto piove che No pizza Come no pizza Ma se non è entrato nessuno In che pizza vuole Che ne so Andiamo a vedere qua Alla banca Cosa c'è di bello Perché io comunque Ho bisogno del vostro aiuto In questo caso Perché Io non mi ricordo nulla Qua posso prelevare Preleviamo un Ah no Non posso Non posso prelevare Come l'ho detto Intanto là C'è la gente che compra Vai così In teoria Se io premo Q Lui mi dà tipo Un Un menu Così Potete vedere Come si dice I cosini I Materiali Ma qua Non me lo fa mettere Pronto Pro Pro Ah ok Ah intanto saluto Tutti coloro Che Che guardano Le mie live Anche quando Non sono in live Intanto qui Twitch Si è spento di nuovo Ah è 0 euro In banca Bene Bello Grazie Allora Usiamo la scaletta Che è Bello Ok Questo lo vorrei Tipo mettere qua Che ne so Facciamo un po' Di ordine Ok Poi comunque Andiamo su farming Che anche là Ho tanta roba Da fare Da Da portarvi Ok Facciamo un po' Di ordine Qua sopra Che veramente È un macello Ma se io tipo Lo volessi ordinare Della roba Che manca Come faccio Raga Voi lo sapete Metti questo Si Basta che non sia Roba con copyright Ah no È il mio Ok Allora TV Allora Dammi la tv F Allora È il mio cosino YouTube Questo Giusto La manina Mi ferma Che sta caricando Non so cosa Di mortaggi Su Sta caricando Ok Vuole il dubbio Si guardano Questo Si guardano Un po' Suocato Un po' 360 Ma si guardano Ciao Pe Pos Grazie per il follow Benvenuto Allora Mettiamolo qua Mi ricordo che Nick Andava in bar In negozio A comprare le cose Per poi Mettere La sua negozio Ok Ok Sgaspari Thomas Benvenuto Grazie per il follow Andiamo a vedere Nel negozio E prendere qualcosa Allora Salve Cocchis Benvenuto O benvenuta Non lo so Buonasera a te Vediamo qui Se posso prendere Ah questi sono gli scaffali Che eventualmente Posso prendere Però Non adesso Qua posso prelevare Ammazza che tuoni Sono Sono tre volte I tuoni più forti Del Farming Tre volte Se non quattro Allora Qua non c'è nulla Da comprare Che comunque Il tablet Già l'ho preso E tutto quanto Vabbè Prendiamo la macchina Andiamo alla ricerca Andiamo a rubare No Mi dissogio Allora E vai Ma non frena Sta macchina E freni tipo A carbone Ah ok Qua posso comprare Qualcosa Gioielleria Però mi sa che questo Non è sbloccato Tipo Non è sbloccato Mi sa Non lo so Posso aprire anche questo No Oh c'è la pula C'è la pula Stacca 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 Che c'è la pula Questo è già stanco Allora Lui è troppo intelligente Boh Io non mi ricordo Di sto gioco Perché comunque Sono passati anni Da quando l'ho visto Su Nick Ho passati tanti anni Ehm Qui non mi ricordo nulla Ehm E Buongiorno Allora Prendo Ah ma me l'ha data in mano Come faccio io ad aprire sta roba Vabbè Ma è nel bosco In che senso Perché si può andare anche a caccia Ehm Ehm Eh tipo Volevo mettere sta roba Vabbè la metto sopra va Ah non me la fa mettere Ciao Roby Benvenuto Roby Nick Ma io volevo Aprire sta roba Tieni lì in mano Eh ma io volevo acquistare più roba Capito Mi ha visto che sono qua Volevo acquistare più roba Ma Vabbè Non lo chiudi L'importante è che Me le fa tenere in mano E mi dissocio Ma non c'è tipo Una minimappa No biscotto di grano Ok Ma non c'è la minimappa Bello Sera di Tisassi Come stai Benvenuto Vabbè No no Non qua Qua dove si ripara le macchine Allora torniamo al negozio Così vediamo Un attimino Dove Dove lo vuole Va Ma il di schiena Immagino Allora Io questo lo metto qua Quindi adesso ci facciamo avanti Indietro Praticamente Aspetta Ah con la O Ok Ricordatemi con la O Ragazzi Che non Sono Ce l'hanno Ce l'hanno Ce l'hanno Ce l'hanno Ce lhanno i cosini piccoli Ricordatemi con la O Ricordatemi con la O Quindi vado a fare un po' di spesa Giorno 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 Oddio Oddio Infermieri Aiuto Vabbè Sono trasparente Gli alberi E avanti Andrei Avanti Andrei Avanti Andrei E buonanotte Così guadagniamo anche un po' di soldi extra da Nel negozio Però non era di qua vero Mi sa Quello che compra Era dall'altra parte E vabbè Ma non c'è da visuale Non c'è da visuale Vabbè Lol Schiantiamo Voci Eh A proposito di Di Eh Dov'è sta panetta In tutto questo Boh Chi lo sa Allora Prendiamo anche lo pesce Prendiamo lo pesce Ok Devo cambiare assolutamente A tastiera Appena potrò Eh vabbè Ma non ci fare caso Allora Prendiamo anche le banane Che fanno bene alla salute Prendiamo anche Allora 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 Ah non ho più money Eh ok Non ho più money Eh con la O No Ho bandiato tasto Tacci Tacci tua Ah non mi si chiude più Il cosino Vabbè Non mi si chiude più Il cosino Vai Vai che non mi si chiude più Eh non hai Eh non hai si Mi sono accorto Che non ho abbastanza soldi Allora Allora Scusi eh Paga l'assicurazione Non Non si preoccupi Allora E' di qua Di qua C'è sempre Il solito Tizio Che ripara Eh detergente Non ho il detergente Mi spiace Eh ma non mi si chiudeva Vediamo se Manco da macchina Non mi vabbè Non è un problema Arrivo Arrivo Vabbè Paga l'assicurazione Come sempre Allora Vai così Allora Eh Lo metto Gli lo metto qua Eh no Biscotti e il cioccolato Ok Ah ho preso un pesce Vabbè Te lo regalo il pesce Tini Allora Eeeh Banane Banane Patate Bevande Quello che volete Insomma Ok A posto Aspettiamo di fare Quattro soldi Così magari Mentre Smetti di Di piovere Intanto io faccio la pipì Allora Per fortuna Che oscura tutto Perché Non voglio vedere Certe cose brutte Allora Andiamo a mangiare qualcosa Però sono abbastanza sporco Io tipo Mi vorrei lavare Però Ancora non ho capito Come si fa A lavare Ah non ho mori per mangiare A posto Sono povero Ma io non posso mangiare Ah posso prendere Lol Lol Ciao Simo Ciao Simo Benvenuta Come stai Eeeh Eeeh Gioppi Fai Cosino Grazie Allora 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 Ammazza Le banane Quanto costano Buono Ciao Simo Come stai Allora Fatemi mangiare Perché sono povero Cioè Di fame Eeeh Non c'è Gioppi Che fa l'isola Ora faccio io Allora Eeeh Ah ok Grazie Grazie Gioppi Allora Mettiamo a posto Le banane Va Le banane Le banane Na 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 Allora Buongiorno signora Prenda Prenda Eeeh Oh però ho finito Ma posso prendere Anche queste No Peccato Vabbè Non le posso Pigliare Ah anche il pesce Lo posso mettere Qua tipo Ah però il pesce Sta meglio Là dentro Vabbè Ti lascio il pesce Giovanotto Se vuoi mangiare Allora Ah anche questo è il pesce Ok Vai vai Ok Eeeh Mangiamo un altro po' Questo tipo Sembra fame Eeeh Ok Vai Vai così Ok Ok Pian piano Ci stiamo Eeeh Eeeh Ingrandendo Apriamo anche questa Va Vai tranquillo Simo Buona cena Poi raccontaci Cosa hai mangiato Che noi siamo Curiosi Ah L con la torcia Ok Posta vai così Tanto mi sposto la scaletta Che non AF Eh Buon uomo Mi la porto Voi non gli dite niente Mi la porto qui in banca Buongiorno genti Vi ho portato una scaletta Se Eeeh Se vi serve Eeeh Arrivederci Non gli dite niente Che gli ho portato la La scaletta Allora Tanto questo Mettilo qua Eeeh Comunque la tv Molto Molto sofisticata Sportello Spunto di google Eh Allora Ma Buon uomo Se n'è andato Faccio io Ma Se n'è andato Ah Ma perché è notte Ok In effetti Ha ragione È notte Ok Quindi devo andare a dormire Giusto Ha ragione Buona cena a te Simo A dopo Ha ragione Ha ragione Ha ragione Notte Ah ok 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 Sgaspari Capito Morta Ah qui Ah qui cini Ah ti faccio compagnia Mentre Mentre Mangi Eeeh Dov'è la mia casa Non vedo una mazza Non vedo Cosa mangi di buono Simo Siamo curiosi Curiosi come un del Un del Un del Un del Morta Eh Eh Eeeh Pasta al forno Anch'io ho mangiato pasta al forno Poco fa Pure io E questa è a casa mia Sì Allora andiamo a dormire Eeeh No Ho preso il letto Mortatella Io non volevo riprendermi Eccolo qua Eeeh Eh io dormo in salotto eh Dormo in casa Così Eeeh F Mangio i bagagli Bagaglio Eh Ah vabbè lo lascio aperto Pagare l'assicurazione Ah le porte Ecco Cofano lì come si chiama Eeeh Così non l'ha Si dai ho capito Me l'ha chiuso da solo Lol Porca miseria Chi dove Quando perché Eeeh Dove Dove esco Pronto Mi son perso Pronto Eeeh Ah di qua Ok Va bene Q Vediamo cosa si può fare Eeeh Diciamo che mi metto il portatile qua Se me lo fa mettere Ok Ok Poi sempre Q Eeeh Un altro portatile Che non si sa mai La Sempre con la Q E Una porta Boh Non so che sia Però Vabbè La metto Do la metto La metto qua così L'ho messa storta? Eh leggermente Leggermente storta Però Vabbè Eeeh Eeeh Acquistare Salva il gioco Ok Cambia il nome del supermercato Ok Salva Cambia il nome del supermercato Eeeh Fatture Ok Assumi Posso assumere un secondo cassiere Che mazza se costa Costa un botto Raga Posso anche acquistare un distributore Automatico Ok Però Non è una brutta idea Quella di portare Il pc A negozio Eeeh Eeeh Auto apertura Del negozio Auto chiusura Del negozio Paga le bollette Ok Ottimo E se io volessi Riprendermi Cosino Eeeh Ok Ok Portiamo nel negozio Uno Lasciamo Ma si Lasciamo la porta aperta Che tanto Non è Che Eccomi Ricordami Di non fare Di non farti Entrare in casa mia Eh no Ma non sono così 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 Eh Market Ya Teoria Adesso ho cambiato il nome Negozio Teoricamente Lo andremo a vedere Andremo a vedere E vai C'è l'era Dov'è il negozio Di qua vero Si Ok Più che altro Simo Ricordati di 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 non farmi salire In macchina tua Se guido io Eh Allora Salve agente Buongiorno Paga Paga Giopi Eh Paga Paga Signor Giopi Oh Eccolo qua Il mio negozio Vai così Buongiorno Ha dormito bene Stanotte Che è sta roba Ah mi ha dato un Ah